Perché è così importante automatizzare i processi quando si investe? Ma che dico importante? È fondamentale per me automatizzare i processi. Ma per quale motivo? Il mercato, o meglio i mercati in generale finanziari, richiedono assoluta pazienza. Questa è una cosa che ripeterò fino alla nausea, ma perché è importante comprendere che è tutta una questione di pazienza da una parte, dall'altro ovviamente anche studio. Senza lo studio non si va da nessuna parte. Cioè senza comprendere ciò che stiamo facendo, ragazzi, è inutile che stiamo lì a raccontarcela. È importante capire su cosa stiamo investendo, il perché, il come ci stiamo posizionando, piuttosto che andare a vedere incroci medie e cose varie. Quindi focalizziamoci sull'analisi fondamentale di ciò che stiamo investendo. Premesso che abbiamo fatto questa analisi, a questo punto ci esponiamo sul mercato. Una volta che ci andiamo ad esporre sul mercato, cosa succede? Succede che ci troviamo con dei soldi in ballo e che staremo probabilmente H24 o quasi ad andare a vedere ogni secondo come sta andando, come sta andando, come sta andando. Questa roba qui è assolutamente deleteria e va eliminata. Bisogna imparare a stare sul mercato in modo stoico, in modo molto strong, forte, sangue freddo, nervi saldi, perché il mercato non è compro qui e fa così. No, non è questo. Il mercato è compro qui e nel momento in cui compro fa questo. E vaffanculo mi va giù e mi incazzo. Poi cosa fa? Inizia a far così, poi va un po' su, poi va giù, poi fa questo, questo e poi magari alla lunga arriva qua. Il problema è che da qua a qua quanto ci arriva? Forse l'1% delle persone. Perché? Perché la maggior parte il prezzo fa così, inizia già a vendere qua per paura di perdere soldi, poi magari torna su e va a vendere qui, dice beh un po' abbiamo recuperato, è fantastico, meglio così. Poi va giù e dice ah ecco vedi che ho fatto bene a vendere, dovevo vendere prima, mannaggia a me. E poi inizia a salire, oh guarda adesso sarei in pari, cazzarola, poi tac e va in profitto. Conosco gente che si è bruciata tantissimi soldi, non è solo questione di quanti soldi si ha, è questione di saper gestire ciò che si ha. Perché ho visto fare questo errore a persone che ci hanno investito 100 euro e persone che ci hanno investito mezzo milione. Quindi stiamo parlando di questo. E quando hai mezzo milione investito e ti trovi a affrontare questo tipo di cose, un po' rode se i mercati vanno giù, dà fastidio, cioè ci vuole sangue freddo perché un calo su uno che ha investito 100 euro qui, un calo del 10% che se ha meno 10 euro è un conto, ma uno che ci ha investito magari un milione, un calo del 10% insomma non è male, non è male come cosa. Quindi cosa si fa in queste fasi? In queste fasi è utilissimo, è fondamentale automatizzare i processi. Questa è una cosa fondamentale. Cosa intendo con automatizzare i processi? Automatizzare la nostra presenza sul mercato, cioè creare una sorta di nostro avatar digitale che stia lì sul mercato al posto nostro. Un avatar digitale che è 1-0-1-0, quindi un robot, un bot, che non ha l'emozione da dire cavolo il prezzo sta scendendo, devo comprare o devo vendere, cosa faccio adesso? Non ha questa cosa qui, ma è semplicemente analizza. Si verifica questo? Perfetto, agisco in questo modo. Punto. Se abbiamo noi questa capacità, fantastico. Io personalmente sul mercato sono estremamente paziente, ormai se vedo il portafoglio che crolla, che sale, semplicemente perché mi vado a esporre in modo sensato, con capitali sensati che sono disposto a rischiare, ma dall'altra parte cerco di utilizzare i bot per rimanere il più possibile con l'occhio sul mercato, ma non il mio, l'occhio dei miei bot. E come faccio ad automatizzare questa cosa qui? Ci sono tantissime soluzioni, in particolare io uso Pionex, di cui tra poco ti parlerò e ti mostro come funziona. È quello che ho. Ho deciso di creare un portafoglio didattico insieme per mostrarti realmente come mi muovo con il mio portafoglio, che è un portafoglio didattico, sì, nel senso che non è il mio portafoglio privato, chiaramente, che utilizzo per investire, ma lo copia. E quindi ti mostro con soldi reali come funziona, come si struttura e come sta andando il portafoglio. Come dico sempre, in ogni occasione, non importa quale tipo di portafoglio si stia creando, se sulle azioni, se su ETF, se su crypto, qualsiasi cosa, io tengo sempre della liquidità. Perché tengo della liquidità? Perché io voglio avere del denaro da utilizzare per poter ricomprare a prezzi migliori. La liquidità viene oggi vista come il soldo. Cioè, se ho un pezzo di carta, non sto investendo. Se io ho il denaro in mano, non sto investendo. Sbagliato. Anche il denaro è un asset. Anche il denaro è un investimento. Ed ecco perché io lo inserisco all'interno del mio portafoglio investimento. Perché molti mi dicono, no, ma stai, perché? Perché ci sono i dollari? Perché ci sono gli euro? Perché dentro il tuo portafoglio di investimento c'è questa roba qui? Il portafoglio di investimento è Bitcoin, SP500, che ne so, Apple e così via. No. Quello è un portafoglio di investimento, certo. All'interno del portafoglio di investimento è normale, ci siano azioni, cripto e cose varie. Ma il denaro è un prodotto. Per me è un prodotto, è uno strumento. E come tale lo inserisco all'interno di un portafoglio di investimento. Perché per me è un asset di investimento. Un asset che mi permette in determinati momenti di proteggere il mio portafoglio dai cali e in altri momenti di espormi alle cose che per me contano. Io so che sul lungo termine il denaro fa questo come valore, perché cala il mio potere d'acquisto. Con l'inflazione, magari un 3% oggi, un 3% domani, un 3% del 3%, nel tempo va a calare il mio potere d'acquisto. Quindi ciò che io compro tendenzialmente dovrà mantenere il mio potere d'acquisto o addirittura performare. E questo è chiaramente appurato, lo sappiamo più o meno tutti. Quello che però molti trascurano è il fatto che in determinate condizioni il prezzo, il costo di questo prodotto qui chiamato denaro è tale per cui i mercati, il resto, fa questo rispetto al valore del denaro. Quindi vale meno, diventa più appetibile il denaro. Ed è in queste fasi, proprio in queste fasi, che io so che il denaro tende a svalutarsi nel lungo termine, che lo utilizzo come fosse la patata bollente, da buttare qua e pescare invece asset che secondo me hanno senso nel lungo termine. Quindi il denaro è uno strumento estremamente importante, la parte liquida nel portafoglio non va mai sottovalutata, perché è una parte estremamente, estremamente importante. Ovviamente tenere solo liquidità nel portafoglio ci porta a che cosa? Ci porta a questo. Cioè non puoi tenere solo una liquidità ferma lì così, perché ti porta a cadere come controvalore, come valore nel tempo. cala il tuo potere d'acquisto. Quello che devi fare è cercare di ottenere degli interessi. Scusa se sto scrivendo da cane, ma questa è la cosa importante, il concetto. Cioè devi ottenere interessi su questa liquidità. Cercare quantomeno di combattere l'inflazione. Ma teniamo in mente, così, buttiamoli un 3% annuale. Che sappiamo benissimo che non è così, sappiamo tutti che è più alto, eccetera. Però quello che viene dato come valore nominale dell'inflazione è quel 3%, 2% e così via annualizzato. Dobbiamo cercare di avere un qualcosa superiore al 3% di annuale. Già solo di base per tenere la nostra liquidità. Tra poco ti mostro come fare. Quindi una parte liquida e una parte investita. Tendenzialmente sul mio portafoglio che cosa faccio? L sta per liquido. Tengo una quota di liquidità per ogni portafoglio. Cioè io non creo un portafoglio complessivo. O meglio, ho in mente un portafoglio complessivo. E farò magari un foglio Excel con tutti i vari portafogli didattici che abbiamo costruito. Che vanno a mimare quelli che sono i miei portafogli. E che ti mostro qui pubblicamente e li guardiamo insieme, li analizziamo insieme. Magari creo un file Excel, se ti può interessare, dove monitoriamo tutto il mio intero, diciamo, patrimonio investito con questi portafogli didattici. Tendenzialmente ho un'idea di massima di quanto allocare in che cosa. A quel punto poi vado in ognuna di queste nicchie. In questo caso, in questo video, analizziamo la nicchia delle cripto. Qui nella nicchia delle cripto avrò una parte di liquidità, una parte di cripto. Nella nicchia delle azioni avrò una parte di liquidità, una parte di azioni e così via. Quindi in ognuno mi tengo una parte di liquidità e una parte investita. Liquidità, investita. Liquidità con interessi e l'investito, boh, è investito. Quindi lì c'è, è un altro paio di mani. Vediamo lato cripto, come siamo posizionati. Allora, il mio portafoglio cripto attualmente, come vedi, io sto registrando questo video, eccolo qui. Oggi è lunedì 9 settembre. Tu lo vedrai, penso, tra due settimane il tempo di sistemarlo. Però in questa fase Bitcoin, così come il mercato, cripto in generale, è relativamente bear. Quindi non se la sta passando benissimo. Se io vado a metterti il grafico di Bitcoin, ti vado a mostrare come sta andando l'ultima settimana. Eccolo qua. Come vediamo, abbiamo iniziato settembre con un calo. Qua c'è più o meno un meno 10% di calo. Da agosto ad oggi siamo più o meno a un meno 20-23% circa. Non vado a guardarti gli all time I, gli ultimi 180 giorni, ma comunque si ha. Questi sono gli ultimi 30 giorni, più o meno siamo su un meno 20%. Se dovessimo vedere gli ultimi 90 giorni, siamo, penso, più o meno qui intorno a un meno 30% circa. E come sta andando il mio portafoglio? Come sta andando il nostro portafoglio didattico cripto in questa situazione, dove molti si stanno strappando i capelli, molti portafogli liquidati. Ho visto delle cose che, veramente, voi umani non potete immaginare. Ho visto veramente il peggio del peggio. Come sta andando il nostro portafoglio? Il nostro portafoglio si sta difendendo benissimo. Cioè gli ultimi 30 giorni, vediamo, siamo a un meno 2.15% contro un meno, cosa abbiamo detto, un meno 20. Quindi sta reggendo molto bene. Negli ultimi 90 giorni, che siamo su un meno 30, noi siamo su un meno 5.26%. Gli ultimi 180, se vogliamo anche andare a vedere, per completezza, un meno 2.19. Quindi, come vedi, il portafoglio è relativamente stabile. A me questo interessa ottenere quando i mercati vanno giù. Perché ricordiamoci che perdere soldi è la prima cosa da evitare quando si investe. Perché è molto facile perdere soldi e come investitori noi non vogliamo perdere soldi. È una cazzata quella del rischio di più, così posso guadagnare di più. Per carità, è una cazzata, sì, nel senso, è vero che se ha maggior rischio potenzialmente c'è un maggior guadagno. Ma è anche vero che un investitore ragiona tendenzialmente come un imprenditore. E cosa vuole fare l'imprenditore? Vuole ridurre il rischio al minimo e ottenere il massimo possibile. Quindi è questo ciò che si deve cercare quando si investe. Ecco perché si diversifica. Si diversifica per andare a mediare il più possibile il rischio. Ridurre le possibilità di liquidarsi il portafoglio. Perché, ragazzi, molti non ci fanno caso. Ma fare meno 50% Magari te lo faccio vedere con un esempio. Se io sono a 100€ sul portafoglio e faccio meno 50%, arrivo a 50€ sul portafoglio. Ma per tornare da 50€ a 100€ io non devo fare più 50%. Perché il 50% di 50 è 25€. Se io faccio più 50% arrivo a 75. Non arrivo a 100 di nuovo. Se io perdo il 50% per tornare a 100 devo raddoppiare. Devo fare un per 2. Quindi è molto facile scendere e fare un meno 50. Ma non è così facile fare un per 2. Ed ecco perché è importantissimo avere una parte di liquidità, avere una parte in portafoglio che ci dia una solida base per muoverci. Solida nel senso, insomma, il dollaro non è che sia così solido, gli euro non è che siano così solidi. Però in un contesto di questo tipo può essere molto utile. Ma tra poco ti mostro esattamente come gestisco la liquidità. Vediamo, giusto per avere un'idea del bilancio del portafoglio, perché uno potrebbe dire ok, ma tu è tutto instable, cioè è tutto liquidità grazie al cavolo che non scende. In realtà no. Come sono distribuito? In questa fase. E ora ti spiegherò il perché. Account primario. Ecco qua. In questa fase, come vedi, ho un 47% USDT, un 30% Bitcoin, un 15% oro e il restante presumo tipo intorno al 10%, adesso un 47 e 30, sono cos'è 92? Sì, penso 92. Quindi un 8% in realtà in altcoin. Perché hai così poche altcoin? Pazzo, folle, il prezzo di Bitcoin salirà, salirà tutto, tutti, tutti, tutti mun. Sì, ma in questa situazione devo guardare un contesto macroeconomico. Altra cosa importantissima, quando si investe bisogna tener conto del mercato globale, cioè di com'è la situazione economica globale. Se io mi espongo al mercato cripto convinto che vada per i cavoli suoi, che non c'entri nulla con l'economia, sbaglio. E sbaglio clamoroso, e molto probabilmente perderò soldi. Perché il mercato cripto è un mercato liquido. Un mercato dove girano i soldi. I soldi vengono stampati e dati ad un prezzo più o meno basso. Vedi i tassi di interesse alla gente. La gente investe. Quindi vuoi, puoi dire quello che ti pare, le cripto non si muovono a sé. È una stronzata che si muovono a sé. Seguono il mercato. Poiché possano essere attratti anticicliche a tutto quello che vogliamo, sì, ma seguono il mercato. Capendo come funziona il denaro, come si muovono i soldi, io devo imparare a capire in determinate situazioni come gestire la mia liquidità. In questa fase, perché ho pochi altcoin? E dove sono andato a finire queste altcoin? Perché io ne avevo molte di più. Chi ha visto i video precedenti avevo una quota più alta qua rispetto al 10%. Eravamo intorno, se non sbaglio, a inizio, più o meno tra un 15, un 20%, che è altissima. Per me, non tengo mai più del 20% in altcoin, perché secondo me è troppo. Però è un mio parere personale rispetto a quello che è il mio portafoglio. Ovviamente su un portafoglio a 5.000 dollari può starci. Nel mio caso, io ho questo portafoglio qui, mima i miei portafogli privati che utilizzo. Quindi avendo più roba investita, più ciccia, mi trovo a speculare molto meno sulle altcoin, perché diciamoci, la maggior parte delle altcoin sono cacca pura, cioè sono ponzi, ok? Senza stare lì a raccontarcela. Mi spongo maggiormente su bitcoin. Ora, perché in questa fase ho un portafoglio molto più sbilanciato, se vogliamo, sul dollaro? Anche se, andando a vedere, comunque sommi bitcoin e oro, siamo a un 30 e 15, arriviamo a 45 investito, effettivamente, e un 47 di liquidità. Qui non è proprio comunque tutto qui, no? C'è qualcosa, no? C'è ciccia. Dicevo perché mi tengo questa quantità di liquidità in questo momento? Perché mi aspetto il 2025 come un anno eccessivo. Ci sono tutta una serie di fattori, l'ho parlato mille volte, che mi fanno propendere per questa tesi qui, cioè il fatto che ottobre e novembre saranno dei buoni momenti per bitcoin e di conseguenza tutto il mercato cripto. Mi aspetto un bitcoin a arrivare agli 80k. Vedremo poi se sarà così. In ogni caso, comunque, sono posizionato nel bene e nel male in modo automatizzato tramite bot. e tra poco ti mostro i bot. Spero di non andare troppo in questo video, però ci tengo a mostrarti tutto tutto bene, perché reputo, penso che sia molto importante vedere contenuti di questo tipo, piuttosto che il classico, che cosa c'ho in portafoglio e cose varie. Cioè io voglio contestualizzare, voglio passarti dalle nozioni. Non ti dico copia il mio portafoglio, ti dico capisci perché mi sono posizionato in un determinato modo. Avere un, arrotondiamo, un 50% ora in portafoglio, ce l'ho perché ho portato dei profitti. Cioè ho fatto dei profitti quando il mercato era in questa situazione. Questo portafoglio è partito da un po' di tempo. Cioè me lo sto portando avanti, giusto per avere un'idea, da qui, da queste fasi. Quindi stiamo parlando dell'anno scorso, anzi in realtà prima, già qualcosina avevo costruito qua. Quindi stiamo parlando di febbraio-marzo 2023, adesso fai tra ottobre, ottobre e dicembre, c'è stato un po' il clue di posizionamento qui, in questa fase. Ora capisci bene che questo movimento qua ci ha portato dei dindi, ci ha portato dei velisgheino, ci ha portato soldi in tasca. E cosa ho fatto allora? Ho semplicemente riallocato il mio portafoglio. Cioè il mio portafoglio in questa fase era un portafoglio totalmente diverso in termini percentuali rispetto a quello che c'è in questa fase. Ed è questo importantissimo da comprendere. La liquidità va usata come mezzo, come strumento, per andare a mediare il nostro portafoglio. È più semplice, te lo mostro con un esempio. In questa fase abbiamo detto, io avevo, sono arrivato ad avere, un minimo di un 30% in liquidità e un 70% investito. Poi sono andato a spingere man mano che i prezzi salivano, facevo take profit e andavo a parcheggiare liquidità. Quindi qua diminuiva la quantità di investito e aumentava la quantità di liquidità. Fino ad arrivare in questa fase dove ho toccato un picco di un 54% più o meno di liquidità in quest'area qui. Quindi quando eravamo sui massimi. Poi il prezzo mi è stornato, mi è tornato giù a un, ho fatto più o meno un 30% da qui a qui. Che cosa ho fatto? Qui sono andato a riparcheggiare una parte di liquidità. In questo meno 30% tra una cosa e l'altra ho riparcheggiato più o meno un 10%. In realtà qualcosa nemmeno perché abbiamo detto siamo sui 47% però ecco per velocizzare il calcolo più o meno un 10%. Un 10% sono andato a riallocarlo in questo calo del 30%. Quindi ho ancora un 47% in questa fase di liquidità. A questo punto cosa succede? Se il mercato torna su io continuo a godere come un riccio perché comunque ho ancora un piede dentro il mercato. E comunque quando sale continuo a portare liquidità di là. Quindi magari mi risale di nuovo di questa fase io vado a riportare liquidità qua riportando poi la liquidità magari sul 50-55%. Tendenzialmente mi tengo su un 50% massimo. Però dipende dalle fasi. Cioè probabilmente fine novembre cioè un metà novembre a seconda di come vedo il mercato evolvere comunque post elezioni molto probabilmente andrò ad aumentare notevolmente la liquidità. Magari la porto sul 60%. Quindi sarò molto più liquido rispetto che investito. Però qua poi dipende da ognuno dal proprio calcolo. Personalmente mi tengo in genere tra un 50-60% in questa fase. Perché mi aspetto recessione. Perché non mi tengo più liquidità se mi aspetto che i prezzi scendano tanto vale uscire con tutto. Perché non ho la certezza. Cioè io mi aspetto una recessione ma nulla vieta che non ci sia nulla e che effettivamente poi il bitcoin parte e faccia magari 100k. Anche se per me è improbabile in questo momento lo vedo più probabile nella fine del 2025 ciò non toglie che può essere. Quindi bisogna tenere conto di questo tenere conto che gli scenari che noi ipotizziamo sono appunto ipotizzati. Non sono scenari che sarà così perché ho visto che bitcoin in passato ha fatto sempre così e quindi farà così. Non è una cazzata. Ciò che è stato non è detto che sarà di nuovo che si verificherà nuovamente in futuro. Quindi la cosa migliore è posizionarsi con pazienza il più possibile portafogli gestiti automaticamente che non andiamo quindi noi a mettere la nostra forma in mezzo e tenere conto di questa parte qui. Ho speso tante parole sulla liquidità perché è una parte essenziale spesso purtroppo poco considerata ma molto importante. Questa liquidità abbiamo detto ci deve generare però degli interessi. Come faccio a generare interessi su Pionex? Ci sono di nuovo tantissime soluzioni basta andare qua su Earn io ti mostro subito che cosa c'è ci sono i classici staking che però sono relativamente economici qui è su ETH scusa devo andare qua ecco Earning eccolo qua abbiamo come puoi vedere un 1.39% su USDT che è veramente niente troppo poco e dà fame così come tutti gli altri e questo è una pecca purtroppo qua su Pionex però si possono utilizzare gli arbitraggi quello che faccio io è utilizzare la liquidità che ho parcheggiata nei bot di arbitraggio tra spot e futures in soldoni questo tipo di bot ho fatto un video dedicato magari ti lascio il link qua sotto così lo puoi approfondire vanno a guadagnarmi che cosa? Vanno a guadagnarmi le funding fee su che cosa lo faccio? Su asset volatili cioè su asset che hanno del movimento e diversifico anche in questo caso perché ci sono più soluzioni vado a mostrarti eccolo qua arbitrage che cosa ho per esempio attualmente io ho questo che mi sta dando un APR attualmente dell'11 38% annualizzato poi ho questo qua stable vedi in questo momento mi sta dando poco mi sta dando uno 0.01% annualizzato questo un 3.07 questo un 2.97 quindi una media fai del 3 4 ad esagerare 5% annualizzato che va bene perché comunque tutto ciò che è più del 3% annualizzato in un certo senso mi va a giocare un po' contro l'inflazione in un certo senso perché poi sappiamo che è più alta però tendenzialmente è già buono rispetto che niente detto ciò si può anche customizzare ora questo qui l'ho fatto vecchio infatti dovrei rifarlo dovrei chiudere e rifarlo partire con altro quindi soprattutto giocando su questo qua customizzabile si può andare a costruire una buona media e fare un po' di un po' di cose interessanti comunque un po' di liquidità qua ci permette di generare interessi tra l'altro interessi composti come si può vedere qui qui siamo in compound questo è molto 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 importante poi che cosa faccio abbiamo detto una parte di liquidità che sta lavorando una parte investita la parte investita la sto andando a investire maggiormente su bitcoin perché per me bitcoin è l'unica cripto che abbia un senso logico sul lungo termine c'è anche ethereum c'è anche solana che hanno un senso logico in ottica di sviluppo in ottica di ecosistema ci sono tanti progettini anche più piccoli caspa piuttosto che che sono interessanti ma tendenzialmente per me bitcoin è bitcoin quindi mi espongo maggiormente su bitcoin e poi via via su tutto il resto una soluzione secondo me interessante da valutare in questa fase di mercato potrebbe essere questa qui un 50% liquidità un 30% bitcoin perché mi aspetto ottobre novembre possa fare un bel pump e quindi crearci della liquidità da riutilizzare questo qui ovviamente con interessi si può valutare se mettere un 25 bitcoin un 5% eth un 20 bitcoin 10% eth lì è da valutare in questa fase eth può essere molto interessante perché sta andando a scontarsi parecchio visto che c'è grayscale che vende come se non ci fossero mani quindi può essere molto interessante secondo me in questa fase andare a prendere qualcosina su eth però però da valutare cioè un portafoglio secondo me è equilibrato è un portafoglio che ha una buona liquidità una buona dose di bitcoin una buona dose di oro cioè il Pax Gold è quello che attualmente visto che l'oro continua a fare dei massimi e visto che ci stiamo avvicinando al mio avviso a una fase di recessione una fase di crisi l'oro potrebbe essere molto interessante da avere in portafoglio e sta giocando molto bene soprattutto visto lo scenario di guerra potenziale insomma non sto a dirti perché tanto sono cose che tutti sappiamo può essere molto interessante in quest'area ed ecco perché ne ho una buona quota all'interno di questo portafoglio tendenzialmente tengo un 10% di oro non di più in questo momento un 15% perché sta salendo molto quindi il suo valore sta aumentando sta aumentando il suo peso qua ero partito con un portafoglio in oro che avevo mi pare un 7-8% quindi intorno al 10% poi man mano che sale il valore ovviamente sale anche la percentuale quindi bisogna poi riequilibrarla nel caso dell'oro comunque si sta autoequilibrando nel caso di bitcoin siamo più o meno sul 30% e poi il restante 8% in questo momento ce l'ho sulle alt quello che si potrebbe fare è togliere magari un 10% qua da bitcoin quindi lasciare un 20% qui e mettere un 5% in eth 5 anche 10% su eth e lasciare un 10% sulle altre alt però poi ci troveremmo comunque con un portafoglio complessivo da 20% sulle alt che ci può stare quindi sarebbe 50 liquido 20 btc 20 anzi facciamo 10 eth 10 altcoin e 10 potenzialmente paxg in questo modo siamo un pochino più equilibrati forse ma un po' più squilibrati su altcoin ed eth rispetto bitcoin quindi insomma a seconda se si voglia aggiungere più pepe o meno pepe si può valutare questo per me è un portafoglio abbastanza speculativo cioè senza abbastanza è speculativo perché comunque andiamo su alt per quanto di alta capitalizzazione è comunque un buon portafoglio spinto in questo momento se bitcoin mi va 80 questa quota qui vado a riparcheggiare qui mi fa dei bei soldini e me lo porto in liquidità nuovamente conto ottobre novembre di tornare di arrivare a un 60% probabilmente di liquidità non di più se aumenta di più ovviamente vado a riposizionarla vado a valutare come strutturarla però tendenzialmente per come sono strutturati i bot per come li ho automatizzati dovrei arrivare più o meno in quest'area qui quindi più o meno su un 60% di liquidità e il resto ancora investito vediamo come cambia ovviamente la cosa e proprio in ottica di ribilanciamento perché stiamo parlando di ribilanciamento è importante avere dei rebalance bot sono dei bot estremamente semplici in cui tu vai a decidere degli asset ad esempio BTC PAXG ETH e così via crei degli indici veri e propri dove gli dici io voglio che bitcoin abbia sempre un peso del 30% questo del 50% e questo del 20% allora lui che cosa fa? in automatico ti mantiene questo bilancio se tu vai a mettere per esempio 100€ te ne mette 30 qui 50 qui 20 qui se bitcoin sale di un 10% quindi il suo peso dal 30% passa al che ne so 35 ti vende quella quota che ti porterebbe il peso a salire di un 5% per esempio e va a ridistribuirla negli altri asset in particolare in quelli che stanno performando peggio ipotizziamo che PAX Gold sia salito nel frattempo di un più 1% ma ITH è sceso del 2 ti andrà a mettere più roba qui per riportarlo su questo livello qui e viceversa sugli altri quindi va a fare proprio un effetto di ribilanciamento come lo automatizzo? beh su Pionex ci sono quelli che si chiamano i bot di ribilanciamento quindi se io vado a vedere i miei bot te le mostro giusto qualcuno qua sono questi due uno essential dove dentro c'è bitcoin e oro e uno invece sulle altcoin diviso per categoria li ho raggruppati questa è un'altra funzionalità molto interessante di Pionex mi permette di raggruppare i bot all'interno di cartelle quindi categorizzarli e utilizzarli questo è molto molto interessante se vado nell'essential per esempio ti vado a mostrare come sta andando qua dentro come vedi ho due bot mi dice attualmente il profitto totale è questo un 8,77% come profitto realizzato fino adesso è un APUR stimato quindi interesse annualizzato attualmente stimato di un 12% circa ne ho due ne ho uno con bitcoin contro clicchiamolo così lo vedi eccolo qua ho questo qui che è c'è una quota di USDT semplicemente perché sono partito da USDT però tendenzialmente il bot è questo è oro contro bitcoin ho attualmente un 63% qua in oro e un 37% in bitcoin perché ho più oro rispetto che bitcoin perché l'oro stava performando di più quando ho visto scenari di guerra e cose varie ho portato più su oro rispetto che bitcoin perché bitcoin segue l'azionario e quando ci sono scenari un po' particolari l'azionario tende a non essere proprio così performante di conseguenza anche bitcoin quindi ho voluto distribuire con una quota più alta in questo momento su oro e una quota più bassa su bitcoin in modo da utilizzare l'oro salendo per comprare bitcoin e viceversa l'esplosione di bitcoin per ricomprarmi oro quindi vanno in automatico a giocare in questo modo le transazioni come vedi ecco ad esempio qua mi ha fatto un acquisto mi ha venduto dei btc perché è salito il prezzo e è ritornato a 55 e mi ha ricomprato oro il cos'era qua il 6 quindi dal 6 al 9 sono passati 3 giorni mi aveva comprato bitcoin a 53 e venduto oro a 24,96 quindi come vedi mi ha venduto dell'oro mi ha acquistato bitcoin poi bitcoin è salito di prezzo è passato da 53 a 55 e me l'ha andato a rivendere per ricomprare oro e quindi fa questo movimento qui ancora prima sempre il 6 tra l'altro però di mattina mi aveva ricomprato bitcoin a 55,9 venduto oro a questo prezzo qui poi andiamo avanti vedi ci sono tutte le varie operazioni a volte vende a volte compra e quindi si muove così nel tempo quello che succede è che io mi trovo più di uno e più dell'altro man mano che il prezzo sale e se non me lo ritrovo in controvalore me lo ritrovo in quantità vedi io qua ero partito con 0,1671 di oro 408 dollari ora ho 0,1599 perché l'ha usato per comprare bitcoin ma bitcoin è passato a 0,0038 che avevo in portafoglio a 0,042 quindi va pian piano a muoversi ogni volta che mi eccede dell'1% in questo momento va a riparcheggiarmi la liquidità il secondo che ho invece è più equilibrato vediamo anche come si è mosso nel tempo in modo più equilibrato in questo caso che cosa ho? ho dollaro quindi la parte liquida del portafoglio la parte speculativa con oro e bitcoin questo è l'altro pezzo di portafoglio e come vedi come percentuali un 35% dollari un 33% bitcoin e un 32% oro e anche in questo caso si muove così e opera paradossalmente si potrebbero usare i rebalance bot per fare trading cioè è una cosa assurda molto semplice da fare senza dover usare indicatori o cose varie ma si potrebbero usare per fare trading cioè io posso prendere e creare un rebalance bot con dentro dollaro e bitcoin dirgli che voglio che ne so 50% dollaro e 50% bitcoin e ogni più 1% che avvenga un rebalance automatico succede che ogni volta che bitcoin sale di un più 1% vende e ti riprende degli usdt poi ogni volta che bitcoin scende dell'1% usa gli usdt per ricomprarti bitcoin e quindi tu stai facendo trading e paradossalmente stai comprando a livelli più bassi e vendendo a livelli più alti senza star lì a fare tutte le varie robe di leve cose incastri e cavolate varie è un gioco di pazienza cioè investire è un gioco di pazienza se utilizziamo i bot possiamo esporci sul lungo termine sul mercato ora vado un po' più veloce perché mi sono accorto che il tempo corre e non ti voglio tenere ulteriormente però come dicevo ci tengo a mostrarti bene tutto ho questa parte qui ho lo stesso sulle altcoin le altcoin sono un meno 10% il che mi va benissimo perché comunque ci troviamo a un meno 20 barra 30% anche di più su determinata altcoin anche un meno 40% nell'ultimo periodo quindi va benissimo il portafoglio si è difeso qui ho un po' più di liquidità rispetto le varie le varie alt beh ti mostro qua ho una un po' più un po' più grossa con le ICAP che come vedi è meno in rosso meno speculativa dove abbiamo ADA AVAX BNB ETH Solana poi ne ho una più speculativa che come vedi è più in rosso dove ho Aevo ENA ICP Injective Jupiter Caspa sui ton poi ne ho una ancora più speculativa che è ancora più giù dove ho ARCAM GRT NIAR TA o TETA queste sulle AI andando ancora su ne ho un'altra ancora comunque speculativa un po' sulle DEPIN un po' sull'RWA dove ho MKR Hondo Pendle USDT e VET in ognuno di questi come vedi figura c'è sempre il USDT proprio perché lo uso per bilanciarmi il portafoglio quindi per avere una liquidità da utilizzare per riaccumulare e così via poi ho un bot Martingala normalissimo su Bitcoin in accumulo dove in realtà quello che fa è come vedi qui comprare mi ha comprato qua 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 man mano che il prezzo scende gli ho impostato mi pare ogni meno 2000 dollari di calo di prezzo compra e poi mi va a vendere quando il prezzo medio viene superato del 5% quindi quando faccio più del 5% rispetto al prezzo medio lui vende quindi attualmente ad esempio siamo a 55 mi ha comprato 1, 2, 3, 4, 5, 6 volte attualmente il mio prezzo medio è qua 55, 4 e 76 quando mi fa il più 5% quindi arriva qua 58.000 2, 50 Bitcoin mi arriva qui lui va a vendere tutto quello che ho comprato qua e riparte e fa di nuovo un altro acquisto e quindi va a muoversi in questo modo nel tempo questo bot se la sta cavando relativamente bene ti mostro anche i parametri ecco se vuoi magari ti condivido tutti i parametri di tutti i miei bot qua sotto nella descrizione così puoi prendere spunto prendere spunto perché sono basati sulla mia strategia poi ovviamente tu devi analizzare studiare la tua in questo caso come vedi ha 2.000 di deviazione quindi ogni volta scende di 2.000 dollari compra 1.5 di scala quindi mi compra qui 2.000 poi scende giù di 2.000 mi compra 2.000 per 1.5 poi scende ulteriormente di nuovo quello di prima per 1.5 e così via fino a 11 ordini poi scende di 2.000 per 11 ordini va a coprire una buona fase di prezzo e poi gli ho impostato una zona dove lavorare che va tra gli 0 e gli 84 quasi 85k se mi supera gli 85k non va più a ripescare ordini comprare vendere ma ricompra solo quando è dentro questo target qui quindi questo range qui attualmente questo bot se la sta passando bene vediamo è salito siamo a un più 7% quindi ci sta sono tanti bot che ho strutturato piazzato un po' qua e là vado a mostrarti anche quelli strutturati questi qua sono sostanzialmente delle opzioni sono bot basati sulle opzioni qui servono per far giocare la mia liquidità quindi farmi guadagnare soldi dalla mia liquidità contemporaneamente investendo questo qui per esempio btc flying wheel che cos'è? è sostanzialmente una sorta di opzioni gioco tra opzioni call e put dove io sto andando a dare un prezzo target 67k e io a quel prezzo compro e vendo bitcoin in che senso? cosa succede è che nel momento in cui io entro e mi do questo target qui per comprare vendere vado a guadagnare degli interessi a seconda di come vado a utilizzare le azioni call e put però qui è automatico magari ti condivido anche i parametri di questo se si può fare penso di sì così puoi darle un'occhiata dove io posso sostanzialmente guadagnare da entrambe le direzioni quindi se bitcoin rimane sopra il 67k io guadagno interessi in dollari se bitcoin scende sotto il 67k come in questo caso io guadagno bitcoin quindi vado a guadagnare più bitcoin accumulo di fatto bitcoin lo utilizzo infatti per accumulare sostanzialmente come fosse un piano d'accumulo che ho già attivo però funziona un po' come un piano d'accumulo quindi accumulo bitcoin quando siamo sotto il 67k per questo bot qui e vado a guadagnare invece interessi in dollari quando siamo sopra attualmente vedi qua siamo in perdita sì questo qui è la perdita dovuta dal holding perché ho un arbitraggio quindi ho già fatto un più 4,62% di media di interessi ed è attivo adesso non ricordo da quando eccolo qua il 24 giugno quindi dal 24 giugno ad oggi ha fatto un più 4,62% di interessi e in negativo di un 18% di 9 dollari per il mio holding perché io possiedo dei bitcoin questo è il mio prezzo medio dell'holding attualmente perché sto accumulando man mano il prezzo scende quando mi torna su a 67k questo ovviamente va a 0k e quindi io sono in profitto netto da lì in poi inizio a riguadagnare nel frattempo accumulo però il fatto che bitcoin mi salga mi torni qua io questo meno 18k l'ho in realtà recuperato e ci ho guadagnato sopra quindi questo da considerare infatti qua un APY stimato attualmente per questo bot è del 27% annualizzato stessa cosa per l'altro questo qua in questo caso ho messo un target a 55k quindi per ora mi sta solo prendendo WSDT perché è sempre rimasto sopra come puoi vedere e quindi sono attualmente a un più 3,99% e qua uno stimato di un 18,96 18,69% sull'altro portafoglio che per ora sono slogato ho mostrato comunque nel video della scorsa settimana se non sbaglio ne ho altre di queste soluzioni che più o meno c'è quella 40 più 40% quella 80% e così via comunque anche quell'account lì è identico come struttura lo sto dedicando solo praticamente a questi bot qui e qualche bot di arbitraggio però sostanzialmente diciamo il più dei bot che sto utilizzando nei nostri portafogli didattici sono qua sopra questa era un po' la struttura del nostro portafoglio come l'abbiamo posizionato che cosa ci abbiamo messo dentro il perché con quali soluzioni ti lascio qua sotto tutti i vari parametri di tutti i bot così te li puoi analizzare te li puoi studiare ti lascio qua sotto il link per registrarti a Pionex se ancora non l'hai fatto è gratuito puoi usare tutti i bot che vuoi tutti gratuiti non devi pagare nulla assolutamente niente funziona come i classici exchange come Binance e così via qui non ha nessun costo per usare i bot o cose varie no è un exchange normalissimo tutto free e tutto estremamente interessante utilizzare i bot è importantissimo ed è utile per stare distaccati dal mercato quindi distaccati dal risultato lasciare che loro agiscano per conto nostro che operino per conto nostro comprano vendono fanno tutto quello che c'è da fare al posto nostro in questo modo nel tempo andiamo a battere inevitabilmente il mercato la pazienza è l'arma più forte che abbiamo insieme a strategia studio chiaramente e perché no anche bot un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video a Grazie a tutti.